Allora, sì, sono arrivata con la partita contro l'Empoli, che è stata una partita dove è stata una partita di coraggio. In quella partita proprio c'è stata l'unione del gruppo, da lì abbiamo, secondo me, si è svoltata la stagione. Ok, sono arrivata io, sono arrivate altre, però in quella partita proprio ho sentito anche da fuori l'unione del gruppo più solida. Sì, mi è dispiaciuto tanto non essere lì a Firenze perché ero carica, ero molto carica, però diciamo con le mie sensazioni positive le ho mandate alla squadra, quindi abbiamo vinto a Firenze e sono stata contenta. Quindi queste due settimane i due mister, Giulia e il mister, mi hanno caricato ancora di più perché erano due settimane senza partita, sono sempre complicate. Quindi mi hanno detto di spingere, di continuare a fare bene e la mia occasione poi è arrivata. Sì, è vero, come ci ha detto il mister, noi potremo vincere con tutte e potremo perdere con tutte. Quindi ogni partita è a sé. Il Verona, come hai detto tu, contro la Juve ha perso di misura di un gol. Contro noi ci abbiamo messo in difficoltà oggi, quindi noi siamo state brave. Sono stati mesi prima di arrivare a Napoli complicati per me, quindi per me questa è una soddisfazione sia perché abbiamo vinto, ma è una soddisfazione personale perché sono stati mesi difficili, quindi è stato uno sfogo. Poi il gol per un attaccante è sempre un gol, è sempre un'emozione unica. Grazie a tutti.